secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! adesso ti do un calcio nelle palle che ti castro il gav è uscito allora gavrone ti prego ti prego di salvare questo video a tutti i posti anche se non lo pubblichi io voglio che ti prego perché giuro che se non ce l'ho alzala! 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 grazie tommy per i 5 bentornato sono puote 2 4 merda a colore bella! bello 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 cristandro si aspettavo pure anche un formato no 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 ho il toll deville casa calma 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 si lavora si lavora Scusate ragazzi, so che... Umbano, umbano! Vai, vai, madonna grazie Senta! 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 Io l'ho mangiato! 8-9-89 Ti vengo a... No, io ho smesso, dai. Mi piace sciopare così ciò Ma sei tranquillo Non lo so, io non mi fido al mistero Te lo dico. Mistero, mistero Che si vidi? E bisogna avere un minimo di brivido Sennò che cazzo è Vai, vai, vai Sei? Sì, ma c'è un brivido di merda Te lo dico io Hashtag ora del VIP Il primo che da ora Farà la sub Diventerà VIP del canale, ragazzi Via le danze L'ora del VIP Il primo che fa la sub Diventa VIP del canale L'ora Guarda qua L'ora Hashtag Hora della truffa Eh, senti Mi chiamo... Pisa la rana Comunque l'hanno scritto, mi conoscono Tomorrow Mod, droppate sta clip Doppiamo la clip Doppiamo la clip Sto gamblando passivamente Lo so E la pasta Che pasta hai? Spaghetti? Spaghetti, si 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 Facciamo un po' di più così si vogliono mangiare qualcosina anche loro Non fa uno spuntino Ma no, zero No, abbiamo mangiato... Noi abbondiamo così si Abbiamo mangiato le 3 e 9 Minchia, ok Ma ancora c'è arrivato a Milano? Gab, fate un ai mai Si potrebbe fare, tipo chi l'ha fatto beve No minchia, alle 5 del pomeriggio Magari dopo la pasta E dopo la Oh Oh Mi ha salutato il tipo del crazy What? Mi ha salutato il tipo del crazy Ha detto sei tu gabrone Ma che... Ma raga l'avete sentito? What? Come no gab? Oh Oh Oh, buona giornata Alex, ho visto il tuo messaggio Ma... Sì Eh, tizio Vediamo Quando vuoi andare a fare le sopracciglia Dai, non l'uno C'è... Tizio Che è uno in Torino Che vuole portare in un posto Che vuole fare fighissimo In cui ti fanno le sopracciglia In questo caso Che avrei dato da 10 e mezzo E a lui? Due punti e mezzo però Ho vinto di poco, brother Vabbè, ma ragazzi Voi siete di parte comunque Raffanculo È vero Pure io lo pensavo, lo sai Cioè, voi siete tutte di parte Che cazzo Vabbè Vabbè Non c'è il cliente Dovevano fare Dovevano fare I props a te Ma non ho Non ho preso male questa sconfitta Non posso farlo Merda Che sfiga Però vabbè, minchia dai 680 Poi te li siete giocati tutti, bro I 680, immagino Minchia E vabbè Il big bus è una pettinata Minchia, bro, ieri pure ho visto È stato un botto reagire il mister tutta la sera, bro Tipo, facciamo avanti e indietro un po' di volte Minchia ho visto la risalita che ha fatto alla fine alla big bus Che continuava, bro Continuava ad andargli sul per 10 No, ma galleggiamo, galleggiamo DJ Finchia DJ, tardiamo sotto Grazie Giacomo Per la sub Benvenuto Grazie Guarda che qua devi fare una sessione bella Sì sì Buon giocato Quanto devi dare allo Stato sti soldi Esatto Quanto devi dare tutti allo Stato Oh, perché no? No, peccato Peccatissimo, cazzo C'era, eh? Vabbè, son caldo Fai blu Fai blu . Fai blu ", better, def . Cazzo cazzo che grande oddio oddio il saltino il saltino il saltino il fru oddio oh sei grande sei grande murami 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 ma poi il saltino spezza è tipo una cosa troppo oddio oddio bellissima porco zio rod 20k tu vieni danny massello ti odio profondamente ma tieni sta sub è la clip ma la spamma di mod in chat danny massello ti odio profondamente ma stasera un po' come a natale siamo tutti più buoni quindi pegati sta sub e basta cagare il cazzo oddio bello 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 Tutto è bello. Double di nuovo, o 200? Double. 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 Double! Double, 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 double. Again, 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 again. Again, 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 again. Madonna. E anche un cento, un duecento. Un e sessanta, ti prego. Un e sessanta, sono bianco. Double di nuovo. Mentalità, mentalità, mentalità. Mentalità. Dai, dai. Ma ora adesso? Ma ora 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 adesso. 200! Yes! 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 Praticamente a distanza, a distanza ho un metodo che è infallibile. Cioè io applicherò un peso... Sì. ...alle palle. E lo lancio dalla finestra. Beh... Scherzo. Sì. Scherzo. Ma devo guardare sempre lì. Ma cazzo che trasmissione! Che ho fatto? Cos'è sta roba? Raga cosa ho fatto? Cos'è? 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 Cos'è nulla? Ma cosa è successo? Amo non lo so. Ecco, guarda come corre. Scala colore! Cosa ho fatto? No, dov'è? Ma non stai giocando, dadi là. Sì, sono io. Sono io questo. Ma non stai giocando in bet behind, dadi là. Ma cos'è? Ma... Ma stai giocando in bet behind? Svegliati, svegliati! 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 Clicca! Raga, sembra finto! Non c'è chi mi guarda molti piccatori duemila e cinquecento per! Non lo sto fermando! Sto fermando! Sto fermando te! Non ce la faccio! Aspetta! Aspetta! Svegliati. Il meglio, almeno un mille. Almeno un mille. Porca di...! Siii! Porca di... Porca di... Porca di Weaver! Porca di... Porca di... Porca di... Oddio... 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 Pro! Pro! Rega, non giocate, non giocate. Questa non è la realtà Mi ho perso i 10 miliardi Ma bro, questi non li ho mai vestiti Mi ho 5 mila per Ottimo bro Non oriamo, non oriamo Raga, non giocate Questa non è la realtà Questa non è la realtà, signori ghiari